iscrivetevi al canale attivate la campanellina e lasciate un bel like e benvenuti a te del mario sono visto di essere qua e non visto in questo video ragazzi mi mostrerà il mio mio addetto poi ragazzi ve l'avevo già mostrato un video tanto tempo fa ragazzi ma ho deciso di rimostrarlo beh ragazzi dato che dall'ultimo video ho fatto molti più acquisti eccetera 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 adesso iniziamo ragazzi allora andiamo su armadietto ho messo tutto default nei balli però vabbè allora nelle skin no iniziamo dai cross dai dalle scie che prima questo cristallo del ghiaccio poi c'è ero nel sistema e senza spettrala scienza e vetro fiamma virtuale lenta fibre ottica unico i pistrelli pianta rampicante lucia fa a filo luciola lanterna gifi piocchi di neve e poi c'è scarico tp trifolli turbini che sono tutti i balli secondo me del pass del pass un fiume di denaro zucchi di halloween e l'ultimo sedardo volante poi ragazzi è detta plan infatti non li ho sciopati non li ho sciopati solo uno ragazze di tutti questi allora sempre questo conquista poi ci credo quale gianta motore oscura sciame scoperta che del skin galaxy tuffo ali congelanti con schiacciata coperta castro cuore allato tutto a plano equilitatore serpenti dei cieli scritta tattica fuoco incrociato incrociatore picnic scala marcia velivo areale delta plan quello che ricevete che hanno creato un account del fondatore foglie di palma l'ombrello neve ombra delle fondatore ombrellone ombrello pollo svolazzante e c'è in cembere che ragazzi adesso i picconi questo artiglio del drogo ascia stellare fighissime ragazzi sta sul piccone poi c'è bruciatore giusto del finale graffio permafrost fettura del ghiaccio su loro delle finitura ammessa vol ascia ascia fuggiolore ascia congelata ascia con beviva batti carne poi becco congelato becco di ferro cuore freddo ragazzi poi c'è il fuggiolore luce guida marshmallow vietitore spacca tutto organo organo virtù piccone ascia spettrale e colpo rapido o ragazzi i zaini che questi questo questo ragazzo della skin come si chiama della skin congelante regione ghiacci questo del reggio dell'amore lo vedete da dove faccio vedere dopo tutte le schiene i zaini non che devo lasciare qualche scioppato ma li faccio vedere così più veloce che posso bene così ecco i zaini poi ragazzi ecco tutte le skin ecco sarà un momento cruciale ragazzi il mio armadietto di fortnite dell'ultima volta che l'avete è cambiato un bel po ragazzi quindi allora primo aim della stessa 6 poi alla deriva ovviamente aspetta no alla deriva con tutti i suoi style poi arc poi calamity anche con tutti i suoi style cacca burro quello non l'ho sbloccato neanche un poca burro perché ragazzi avevo sciopato troppo tardi la season quindi non l'ho potuto sconvocare tutto cavolo rosso congelato corvo congelato il pirata che mi manca un bel po per il pirata sono tipo qua perché mi manca ragazzi siamo adesso a dov'è al gender d'arma che non mi piace il ninja idrido che ragazzi anche quella l'ho sbloccato ibrido poi il prigioniero anche con le tutte le sue fasi poi regina di ghiaccio anche con tutti i suoi fasi l'era della squadra rossa ragazzi che arriva da cyber il mondo l'inx con tutte le sue fasi che l'inx è stato più difficile da sbloccare manny come nel fai di caliax Ragazzi poi tutto questo obbligo Poi c'era più turdi anche di questo del salmundo dragon rock è stato quello è più difficile tutto sbloccato Regno dell'amore perduto e dell'amore congelato rapacea re dei ghiacce zenith batlark poi c'è bella donna cacciatrice calzamaglia cobalto compagno di volo dj yonder fibra asking galaxy githup jigger kuno che è nuovo lassio lina rossa mazia mil teschio poi sommetti la per ghiacciala pionera pro lever pre di fortuna poi c'è questo con tutto il suo style questo anche con tutti i style questo anche con tutti i style questo tremino poi c'è balance bogey down campana lama falmenco freestyling style libero calcolatrice capro filina corredore electro swing eselerante giù il microfono giustizia arancione hotmart indica infitab club poi keep il mito lascia andare cucino marshmallow occupato oscilla popcorn segno con le mani sei un mito si va strisce cosa sweep ammolata ops golf questo ho tutte le verdi questo 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 le vi mostro a tutti ragazzi piano piano e vedo un bel un bel po' perché questi non sono i preferiti ok che poi questo 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 poi c'è l'ombra ricchia di battaglia salvatè scatola regalo schiantaterrestra scintalatore scintalatore scintalone segnalapunti ombretta ululato per uno e questo e poi ragazzi tutte le come si chiamano tutte le scie ragazzi questo che è l'ultimo che ho sbloccato ragazzi anche qui le robe che devo modificare che non mi piace più come devo andare a modificare allora che non mi piace più come ragazzi quindi lo modifico faccio più così e il colore il blu blu più chiaro così applica mi piace ragazzi comunque se questo video di del mio maglietto vi è piaciuto lasciate un bel like ragazzi arriviamo sempre ai 15 like non ho dimenticato di dirlo beh ragazzi e noi c'è un prossimo video ragazzi ciao 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 ciao